Questo è il nostro testamento, stiamo per morire. Ciao a tutti. C'è il pensiero di chi muore? Valentina, non è? Sì, Valentina è che ha spacciato, è spacciata, proprio. Rità Valentina, è proprio. Non è pensato che non si parla in questo cantino più guardato della maglietta, invece mi toccherà sudare anche qui. Mi spiace. Non è pensato che non si parla in questo cantino più guardato della maglietta, invece non si parla in questo cantino più guardato della maglietta. Non è pensato che non si parla in questo cantino più guardato della maglietta, invece non si parla in questo cantino più guardato della maglietta. No, 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 no Gli elefanti vanno a ballare cimiteri sconosciuti E in giù le vanno a ballare l'orizzonte Gli elefanti 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 vanno a ballare l'orizzonte Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.